Marina sta cercando le chiavi Noi stiamo parlando con gli amici Io sto portando mia figlia a scuola Tu stai ascoltando la radio Gianni sta cantando nel bagno Lui sta guardando i miei occhiali Voi state partendo adesso? Lui sta scrivendo alle sue amiche Loro stanno facendo la visita della città Io sto avendo delle difficoltà Tu stai dicendo molte sciocchezze Voi state bevendo una bibita gassata Noi stiamo amando questo viaggio Loro stanno cadendo dalla bici Luca non è andato al lavoro oggi Neanche Lisa Dobbiamo spostare la macchina Anche voi Vado al cinema ogni sabato Anche io ci vado I miei amici non escono stasera Neanche i miei Io telefono spesso a mia cugina Anche noi Tu giochi molto spesso al campo Anche tu Lei non va mai a letto alle 10 Neanche loro Loro non mangiano mai il gelato Neanche voi Tu mi mandi molti messaggi Anche tu lo fai Voi andate in vacanza d'estate Anche loro Domani dovete alzarvi presto Anche lunedì Non ci piacciono i piatti freddi Neanche a noi Claudia non capisce la lezione Neanche tu Voi andate in vacanza domani Anche loro Lei gioca a calcio da molti anni Anche Luca I miei cugini non aspettano mai Neanche i suoi Lei non può uscire Lei non può uscire di casa oggi Neanche lui Io non so chi ha fatto questo Neanche io lo so Voi avete già finito il lavoro Anche gli altri Luca non dice mai dove va Neanche tu lo dici Uscire I miei amici sono usciti dal cinema Vuoi uscire questo fine settimana? I miei cugini escono di casa adesso Noi usciamo insieme da tre mesi Dalle rubinetto esce molta acqua Lasciare Lascio la stanza appena ho finito Ho lasciato il mio telefono a casa Lascio le mie chiavi sul tavolo Hai lasciato le chiavi in macchina La tua amica lascia il suo fidanzato Partire L'autobus parte dalla stazione Domattina parto in auto Mio cugino è partito domenica Questo libro parte da un'idea Parto ogni giorno in anticipo Andarsene Dobbiamo andarcene via dalla festa Luca se n'è andato sette anni fa L'inverno se ne va tra due giorni Non andartene dalla scuola adesso Se me ne vado poi non torno più Cosa metti sul tavolo? Ci metto un vaso Mangi spesso qui? Ci mangio ogni sabato Come stai a Napoli? Ci vivo molto bene Cosa ne pensi di tutto questo? Non ci vedo niente di male Hai sentito la storia di Luca? Sì, ma non ci credo Devi uscire con Claudia? No, non ci devo uscire Ci sono i biscotti? Sì, sono in cucina C'è già la pioggia? No, non ancora Quanti studenti ci sono? Quasi cinquecento Possiamo mangiare tutto? No, loro ci vedono Dove andate tutti? Lisa ci ha chiamato Cosa dicono i tuoi amici? Ci danno un passaggio Cosa vi hanno fatto? Ci hanno fatto un favore Perché loro sono qui? Ci hanno offerto il loro aiuto Luca è di nuovo a casa? Sì, e ci ha portato dei gatti Come state in Italia? Ci divertiamo molto Quando vi svegliate? Ci svegliamo alle otto Quando andate al cinema? Ci andiamo domani Ce la fate a finire? Possiamo riuscirci? Ne avete discusso? Sì, ma non riusciamo a capirci Siete entrati al museo? No, non possiamo entrarci Provate la risposta tra le proposte Abito a Bruxelles da dieci anni Bruxelles Si trova in Belgio Hai accettato di venire a casa mia? Lo rivedo sempre con gran piacere Questo è un fazzoletto di seta blu Laura, ti diamo il benvenuto tra noi Fate una ricerca sui giornali Bevono un caffè e parlano tra loro Grazie per la tua collaborazione Lisa vive con i suoi genitori Prendo una pillola per il mal di testa Lo zio viene stasera tra le otto e le nove Sono in biblioteca fino a tardi Tu sei veramente gentile Può fare questo facilmente Mi ha parlato freddamente Il film è stato realmente bello Ti hanno sentito perfettamente Ho fatto velocemente i compiti Eventualmente vengo domani Si mangia principalmente freddo Non potevamo fare altrimenti Mi sono fermato immediatamente Guido sempre molto attentamente Andiamo direttamente a casa Ti sei mosso davvero agilmente Me l'hai chiesto gentilmente Non si vede il mare da quassù Nell'edicola si vendono i giornali Domani ci si sveglia presto Stasera si può andare al cinema Loro si prendono la mia auto Al ristorante si mangia bene Si dice che quest'anno nevicherà Spesso si viaggia di notte Dalle piramidi si vede il deserto Ieri sera si è parlato di tutti voi Se si sta male è meglio dormire Si prevede una gran pioggia In estate si fanno le vacanze al mare Non si finirà per vendere la casa Io sono Tu sei Lui, lei è Noi siamo Voi siete Loro sono Io ho Tu hai Lui, lei ha Noi abbiamo Voi avete Loro hanno Io so Tu sai Lui, lei sa Noi sappiamo Voi sapete Loro sanno Io do Io do Tu dai Lui, lei dà Noi diamo Voi date Loro danno Io sto Lui, lei dà Tu stai Lui, lei sta Noi stiamo Voi state Loro stanno Io faccio Tu fai Lui, lei fa Lui, lei fa Noi facciamo Voi fate Loro fanno Io vado Tu vai Lui, lei va Noi andiamo Voi andate Loro vanno Io bevo Tu bevi Lui, lei beve Noi beviamo Voi bevete Loro bevono Io esco Tu esci Lui, lei esce Noi usciamo Voi uscite Loro escono Io vengo Tu vieni Lui, lei viene Noi veniamo Voi venite Loro vengono Accettare Accettavo Ho accettato Permettere Permettere Permettevo Ho permesso Chiedere Chiedevo Ho chiesto Rompere Rompevo Ho rotto Portare Portavo Ho portato Comprare Comprare Compravo Ho comprato Potere Potevo Ho potuto Cancellare Cancellavo Ho cancellato Cambiare Cambiavo Ho cambiato Pulire Pulivo Ho pulito Pettinare Pettinavo Ho pettinato Lamentarsi Mi lamentavo Mi sono lamentato Tossire Tossivo Ho tossito Contare Contavo Ho contato Tagliare Tagliavo Ho tagliato Ballare Ballavo Ho ballato Disegnare Disegnavo Ho disegnato Bere Bevevo Ho bevuto Guidare Guidavo Ho guidato Mangiare Mangiavo Ho mangiato Spiegare Spiegavo Ho spiegato Cadere Cadere Cadevo Sono caduto Riempire Riempivo Ho riempito Trovare Trovavo Ho trovato Finire 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 Finivo Ho finito Far stare Facevo stare Ho fatto stare Volare Volavo Ho o sono volato Dare Davo Ho dato Ho dato Finire Mi può dire Dov'è la stazione? Mi potrebbe dire Dov'è la stazione? Voglio un paio di pantaloni neri Vorrei un paio di pantaloni neri Ti va un caffè? Ti andrebbe un caffè? Dovete ascoltare i consigli Dovreste ascoltare i consigli Mi faccio un piatto di spaghetti? Mi farei un piatto di spaghetti? Mi passi il sale? Mi passeresti il sale? Può chiamare ancora? Potrebbe chiamare ancora? Che ne dici di uscire tutti insieme? Che ne diresti di uscire tutti insieme? Posso pagare con la carta? Potrei pagare con la carta? Rimango qui per un anno? Rimarrei qui per un anno? Deve stare più attenta? Dovrebbe stare più attenta? Sto ancora un po' a letto? Starei ancora un po' a letto? Vado a studiare? Andrei a studiare? Ci fai un favore? Ci faresti un favore? Puoi comprarci il giornale? Potresti comprarci il giornale? Con l'aereo viaggio più veloce? Con l'aereo viaggerei più veloce? Con l'aereo viaggio più veloce?